Sono Federica, faccio parte del collettivo Squirt come mi ha introdotto prima e questo collettivo è un collettivo nato due anni fa circa che lavora su tanti piani sia dal punto di vista cittadino che interno e dopo aver fatto questa piccola pubblicità sono qua per presentare il libro Giochi di dolore di BDSM, sessualità dirompente di Virginia e inizierò facendo un'introduzione su che cos'è il BDSM per poi chiederti di ampliarlo, integrarlo spiegandoci e raccontandoci la storia e mi permetterei anche di dire l'essenza queer che poi va a costituire quello che è il BDSM e di conseguenza anche spiegarci l'importanza dell'introduzione della lettera K di Kinki nella sigla LGBTQIA+. Allora, quando sentiamo parlare, ci approcciamo al BDSM molto spesso ci capita di sentirla come una cosa lontana, una cosa nuova perché è radicalmente diversa quella che è l'immaginario di sessualità che ci vendono di solito, del modello capitalista che vuole e comunque ci dice che l'unica modalità di esprimere e di manifestare la nostra sessualità è quella penetrativa mentre il BDSM e la scena sadomasochista ci mostra e ci fa comprendere come invece ci sia una potenzialità altra, un modo di percepire la sessualità andando oltre e entrando in quello che è invece un movimento dinamico e vivo in cui l'erotica che alla fine è quella che va a abbracciare poi tutta questa e in realtà va a creare una spazialità diversa, una spazialità trasformativa. Tu durante tutto il libro parli sotto diverse forme, diverse declinazioni della potenza destrutturante del BDSM soprattutto rispetto a quella che è la nostra quotidianità e soprattutto appunto della nostra quotidianità e quindi secondo me è molto interessante soffermarci sul fatto che innanzitutto il BDSM sta per bondage e disciplina. dominazione e sottomissione, sadismo e masochismo e questo acronimo secondo me ci suggerisce anche come ci siano dei rapporti di forza simili a quelli che invece vediamo nella società in cui c'è un potere però è un potere pieno di aspettative, pieno di questa natura prevaricatrice mentre come accennavo anche prima appunto il BDSM va a creare un potere diverso e come accennavo prima ha questa potenza trasformativa non solo della realtà e del reale ma anche di noi stessi quindi per l'appunto ti chiedo di ampliare quanto detto. Grazie, sì BDSM appunto è una sigla che racchiude tutta una serie di aspetti di sessualità dissidente è una sigla che è andata a sostituirsi al sadomasochismo che era invece la prima dicitura diciamo perché sadomasochismo era diventata una parola troppo stigmatizzante, troppo clinicizzata e in realtà anche BDSM adesso sta perdendo campo nel senso che si preferisce molto di più kink come termine ancora più ombrello, ancora meno specifico. Per fare un riassunto di tutto quello che è compreso nella sessualità kink o BDSM è tutto quel gioco erotico che manifesta le disparità di potere. In una società che ci dice che nei rapporti soprattutto con gli amorosi ma quelli insomma relazionali, sani, il potere non c'è, il BDSM, il kink smaschera il fatto che il potere invece c'è sempre e smascherandolo permette ovviamente di farci i conti, di giocarci, di cercare dei modi per gestirlo proprio perché diventa visibile. Allora il BDSM inteso come cessione di potere quindi una persona che cede il potere su se stessa a altre persone è il senso di questo smascheramento di potere e di questa potenzialità. prima accennavi al fatto di inserire la cappa nella sigla LGBT+, è una rivendicazione che la comunità kinky sta portando avanti ormai da diversi anni in realtà è una rivendicazione che ha molto senso se pensiamo che tuttora la comunità kinky è fortemente oggetto di stigma anche all'interno delle comunità omosessuali e anche all'interno delle comunità lesbiche e che ci sono dei problemi anche di tipo legale per esempio ci sono delle battaglie legali sulla custodia dei figli per chi pratica sessualità kinky ci sono appena scoperto un caso di un'espulsione dall'università della Virginia per un ragazzo che appunto faceva BDSM quindi come dire ci sono anche delle questioni da portare avanti a livello istituzionale e questo è il motivo della rivendicazione cioè il fatto di dire la comunità kinky fa parte a tutti gli effetti e a tutti gli effetti una comunità discriminata e quindi ha bisogno di uno spazio in cui esprimere delle proprie lotte e delle proprie rivendicazioni. Io sono personalmente d'accordissimo con questa posizione ci tengo anche a dire che non è la mia battaglia nel senso che poi preferisco molto di più pensare al kinky all'interno di una comunità queer che non ha bisogno di specifiche lettera per lettera ma che può agire e non ha bisogno tanto di riconoscimenti dall'esterno ma che si riconosce all'interno. Beh grazie intanto colgo questo stimolo che hai dato sul fatto che questo potere destrutturante vada poi per l'appunto a smascherare quelle che sono le diverse sfaccettature del potere e di fatto è poi quello che fai anche nel libro che suddividi e analizzi poi a 360 gradi il BDSM nella sua totalità vai a toccare la cura che è essenziale poi nel potere sovvertivo di cui parliamo vai a parlare del prodotto quindi della capitalizzazione del BDSM e tante altre cose e quindi approfitto per collegarmi alla prima domanda citando un tuo frammento in un gioco ricorsivo il dolore utilizzato come simbolo di potere aiuta a smascherare anche gli altri simboli del potere la portata destrutturante del sadomasochismo inizia dalla diffusione del piacere degli apparati sessuali all'interno del corpo o addirittura a fetici che espandono il corpo in una sessualità che non ha più nulla a che vedere con la genitalità dunque tu qua parli per l'appunto di poi di una performatività che si va a creare ma non è una performatività che in funzione di un'aspettativa o in funzione per l'appunto di uno scopo come invece vediamo che è il meccanismo strutturante della società in cui viviamo ma è una performatività di espressione, di potenzialità e secondo me tu nel tuo libro analizzi molto esaustivamente tutto ciò soprattutto anche per l'appunto in un'ottica politica è molto interessante e questo smascheramento si vede anche poi nella tua spiegazione racconto del rapporto top e bottom che sarebbe la persona che domina e la persona che sottomette quindi ti chiederei di approfondire sì l'aspetto del potere come sovversivo ma soprattutto del dolore come simbolo perché secondo me è un aspetto che se uno non vive all'interno di questo mondo comunque prova o sente un richiamo verso ciò è un po' difficile da cogliere un riassunto di tutto il libro sostanzialmente allora il sadomasochismo ha questa capacità di destrutturare i rapporti di potere proprio manifestandoli nel momento in cui io gioco col potere tanto da dominante quanto da sottomessa nel senso che o assumo un potere o lo cedo e per farlo ovviamente devo riconoscere un mio potere e appunto o esasperarlo, esaltarlo e quindi manifestarlo in tutta la sua potenza o rinunciare completamente e quindi cederlo in entrambi i casi è un movimento che è per sua stessa natura queer perché è destrutturante, è destrutturante del potere ed è impoterante nel momento in cui questo potere poi alla fine della scena ce lo riprendiamo o lo restituiamo nel senso che a quel punto l'abbiamo nominato, l'abbiamo smascherato possiamo farci conti anche nella nostra vita quotidiana possiamo dire ma se io quel potere ce l'avevo tanto da averlo potuto cedere vuol dire che in altri casi me lo tengo, lo esercito oppure no, oppure decido sempre di rinunciare però ne divento consapevole e ovviamente questo fa sì che io ne esca impoterata in qualche modo in questo scambio di potere il dolore che ci tengo a dire è il focus del mio libro ma non è il focus di tutte le relazioni chinchi ci sono relazioni chinchi che non prevedono il dolore il dolore è il simbolo di questo scambio ci sono vari assunti da cui partire quello che secondo me è uno dei più fruttuosi è il fatto che l'evitamento del dolore è uno dei primi insegnamenti che riceviamo forse anche in modo estremamente naturale nel senso che anche gli animali tendono a evitare il dolore ma anche e soprattutto in modo educativo per cui l'educazione del bambino passa attraverso una serie di limitazioni che fanno sì che lui non provi dolore non provi il meno possibile o come dire si cerca di proteggerlo dal dolore l'idea di riappropriarsene quindi destruttura un po' proprio le basi su cui tutta la nostra relazione umana è costruita io prendo quello che mi hanno detto che è proprio la cosa più sbagliata da fare mettere la mano sul fornello e dico no vabbè invece nel momento in cui questa cosa è relazionale in cui questa cosa la cerco mi piace e me ne riapproprio ed è un movimento di nuovo estremamente impoterante il fatto che possiamo pensare al dolore come simbolo fa sì anche che il dolore è un simbolo soprattutto nel momento in cui è relazionale nel senso che ovviamente esistono anche pratiche che prevedono sostanzialmente quello che clinicamente viene definito autolesionismo ma che può avere anche altre forme che però non approfondiamo qui nel BDSM il dolore è relazionale quindi non solo me ne riapproprio nel momento in cui appunto decido di perseguire il dolore sia subito che anche imposto imposto ovviamente all'interno della negoziazione che il BDSM prevede anche imporre il dolore è uno smascheramento di un grande tabù di nuovo è una grande educazione e forse ancora di più non devi fare male e c'è anche una parte di genere estremamente importante perché il detto le donne non si toccano neanche con un fiore è del tutto destrutturato nel momento in cui non solo io voglio che mi tocchi con un fiore voglio anche le spine grazie ok ok allora mi collezionando sempre di uno stimolo che ho ricevuto nella tua risposta che riguarda a quello che è il meccanismo di distorsione del fatto che il modello capitalista comunque cerca di dirci cosa dobbiamo fare cosa dobbiamo nascondere e tanto spesso lo fa e soprattutto verso quelle che sono le nostre componenti umane parlo ad esempio dell'umiliazione che la citi anche molto durante il libro che è un aspetto secondo me molto importante che dal modello appunto capitalista dalla società in cui viviamo ci viene venduto come una parte vergognosa di noi una parte vergognosa perché è simbolo di dipendenza e di sottomissione e non simbolo di una parte per l'appunto umana di cui possiamo riappropriarcene come dicevi prima la questione interessante secondo me è il fatto che comunque parlo sempre del capitalismo e sfrutta comunque quello che è una componente idonica dell'umiliazione e lo fa ad esempio nel reality show Grande Fratello penso che l'abbiamo visto tutti e tanti altri che non mi vengono in mente meno male però secondo me è interessante perché vediamo comunque ci sia una continua umiliazione e le persone siano intrattenute da questa cosa quindi vedere questo parallelismo della della componente idonica da una parte quella distorta ok utilizzata sfruttata dal modello capitalista e poi quella componente invece umana a cui noi possiamo attribuire una connotazione diversa quindi ti chiederei di approfondire questo questo aspetto perché secondo me quello che che differenzia queste due è il consenso è la consensualità sempre che dicevi prima di io che ti cedo un potere e tu che lo accogli è il rispetto reciproco poi che si deve avere e la cura di cui parlavamo parlavamo prima sì è la consensualità sono d'accordo è anche la reciprocità ed è anche il fatto che nel momento in cui agisco l'umiliazione o la subisco nel rapporto BDSM mi riapproprio appunto di quella parte relazionale che invece la società dello spettacolo non ci propone anzi propone proprio il contrario nel senso che l'umiliazione che in effetti fa parte è un nucleo centrale di molti dei reality show poi sostanzialmente ma anche andando indietro nel tempo anche di un certo voyeurismo nei confronti delle star quindi cercare il momento in cui le star si umiliano e decadono tutta questa parte qua è una parte che richiede non richiede la partecipazione anzi ti dice proprio tu ne puoi godere puoi godere della loro umiliazione proprio perché sei parte esterna proprio perché a te non succederà mai c'è un po' questo gioco in cui si può succedere a tutti ma in realtà a te non succederà mai ed è quello che ti fa stare bene cioè pensare sta succedendo a lui a lei e a me invece no il BDSM ci permette di agire la potenzialità dell'umiliazione che invece è cosa umana ci permette di agirla in un ambiente controllato in un ambiente relazionale consensuale appunto e quindi in qualche modo ci permette di agire il fallimento nella sua essenza queer cioè noi possiamo essere in modo controllato fallite o possiamo causare fallimento che di nuovo esattamente come per il dolore c'è un'ambiguità di fondo in cui anche il fatto di fare del male è comunque estremamente censurato nella nostra società almeno a livello di normatività poi non ovviamente non a livello di pratica sarebbe bello ma non è così e quindi è proprio il contrario cioè il fatto di agirla di renderla esplicita rende la possibilità del fallimento più umana dell'umiliazione in quanto fallimento più umana più vicina più accessibile e meno mostruosa a quel punto quindi a questo livello di nuovo estremamente impoterante grazie allora sempre parlando di reciprocità torno a quello che è il capitolo cura della cura di cui parlavamo e ti pongo anche una domanda anche un po' provocatoria perché in questi mesi abbiamo avuto modo di vedere tutti come il tema della violenza di genere sia emersa sia stata sentita molto di più a livello di massa nazionale e quindi penso che tutti o comunque tante persone si siano chieste come per una persona che ha subito un abuso che ha subito violenze possa avvicinarsi poi a quello a quello che è il BDSM perché proprio tu parli appunto del fatto di come il BDSM sia terapeutico nel momento in cui per l'appunto ti riappri opi di quello che sei e di quello che è la tua realtà la tua rappresentazione però è un tema molto delicato e anche secondo me molto difficile da capire perché io stessa essendo che tutti abbiamo subito una violenza per quanto mi faccia male dirlo però è una cosa veramente che richiede una consapevolezza e una messa in discussione molto ampia sì io parlo della potenzialità terapeutica di BDSM che ci tengo a dire immediatamente proprio come disclaimer enorme come una casa è una potenzialità autoterapeutica il mio non è in nessun modo un manuale però tra i pochi consigli fondamentali c'è il fatto che chiunque vi dica entriamo in una relazione BDSM perché ti fa bene è qualcuno da cui stare lontanissimo quindi questo ci tengo a dirlo perché proprio mi sembra fondamentale come dato nel momento invece in cui si ha una relazione BDSM e ci si trova in uno spazio di fiducia che è in uno spazio di fiducia reciproco a quel punto sì credo che ci possano essere delle potenzialità appunto autoterapeutiche nel senso che la potenzialità di attraverso dei canali che non sono quelli della parola quindi non sono quelli a cui normalmente siamo abituati in una società occidentale a elaborare i traumi ma non sono neanche quelli delle discipline più orientali orientaleggianti di riappropriazione del corpo attraverso un movimento che è comunque in qualche modo spirituale passatemi la banalizzazione la semplicazione ma attraverso un canale che appunto dicevo prima la società bandisce e rende inesplorato inesplorabile e quindi che quando ci viene imposto ci viene imposto solo come violenza il fatto di potersene riappropriare permette di indagare una serie di difficoltà che possono essere di origine ovviamente traumatica ma anche no possono anche essere luoghi che abbiamo ritenuto fino a quel momento più inaccessibili di noi per educazione per motivazioni politiche per motivazioni sociali semplicemente perché fino a quel momento non era il momento giusto per esplorarle quindi non necessariamente il trauma la violenza anche ma non necessariamente il fatto di poterle esplorare appunto attraverso dei canali che normalmente sono ha questa potenzialità terapeutica che è quella dell'esplorazione dell'esplorazione di sé e del capire come funzioniamo attraverso delle modalità che di solito non ci sono date grazie ok allora parlando sempre di esplorazione di questo movimento vivo di cui parlavo prima comunque emerge dalle tue parole e colgo per questo stimolo sempre per sottolineare come questa esplorazione poi si traduca anche in una contronarrativa in una contronarrativa della della sessualità del potere di noi stessi e parlando di questa contronarrativa comunque dell'importanza poi di essere partecipi alle riflessioni politiche di queste pratiche in generale a sfere che sono molto stigmatizzate e leggo un frammento e un tuo frammento e per poi insomma farti la domanda l'intrinseca narratività dell'esperienza sadomasochista nonché l'esistenza di parafernalia propria del gioco che sarebbe gli strumenti del mestiere perché io non la sapevo quella parola quindi ok facilita la commercializzazione dell'immaginario sadomasochista che si diffonde come esperienza estetica in un discorso eteronormativo il sadomasochismo non trova posto nella visione sessuale ed erotica che preferisce concentrarsi sulla genitalità e se ne conosce così una diffusione estetico-artistica che preferisce concentrarsi su una pratica non consensuale che possiede maggiore potere espressivo questo secondo me è un aspetto molto molto interessante e se non il mio preferito insomma tra tutto il libro anche le domande perché è una cosa che ritrovo molto in quello che è lo shibari l'arte della legatura che molto spesso viene cristallizzata e viene per l'appunto spettacolarizzata e vediamo molto spesso come quando entriamo comunque partecipiamo per l'appunto a delle pratiche shibari la persona che viene legata e poi è una donna e quindi molte volte c'è questa cristallizzazione che va a distorcere la nostra realtà ma anche a livello di immaginario simbolico e di fatti parlando appunto della figura della donna che molto spesso se non tutte le volte ritroviamo legata passa l'immagine anche di una donna priva costretta priva di libertà e quindi la domanda che ti pongo è quanto forte è il rischio se non si rende se non si è resi partecipi poi della riflessione politica e teorica di queste pratiche di questa realtà che ci sia una riproduzione poi di costrutti di genere in cui si vende o comunque per l'appunto si riproduce l'immagine di una donna che è priva di una volontà perché naturalmente dipendente dall'uomo mentre nella scena BDSM vediamo come questa cosa sia il contrario come accennavi anche prima ci sia una cessione del potere volontaria e sempre all'interno di questo rapporto di fiducia e il rischio è enorme però mi viene a dire non è un rischio del BDSM è un rischio della società capitalista cioè il fatto che come dire la società capitalista perpetri per sua stessa natura e per sua stessa convenienza gli stereotipi e i ruoli di genere è un dato che nel farlo sia propri anche di un immaginario sadomasochista in realtà non ci deve stupire più di tanto nel senso che appunto fa parte di tutto un movimento anche di normalizzazione delle dissidenze e di incorporamento di tutto ciò che è dissidente in una come dire in un pacchetto infiocchettato che poi diventa il love is love di Tiger e tutte le bandiere in arcobaleno per tutto giugno Tiger è un po' la stessa cosa nel senso che Tiger non ha ancora sdoganato gli harness ma secondo me non ci vuole neanche tanto appena ci arrivano lo fanno non è non è un problema di tematica e quindi sì ovviamente il capitalismo si è appropriato solo dell'estetica ha tolto tutto il valore politico spesso anche perché il valore politico delle origini del sadomasochismo non era così chiaro neanche ai praticanti stessi il sadomasochismo nasce come sottocultura all'interno degli ambienti gay degli anni 50 ed è una pratica più che altro identitaria che quindi ha un suo valore politico nell'identità gay che in quel momento è fortemente dissidente ma la teorizzazione poi arriva con molta più lentezza negli anni 70 e nel frattempo Hollywood ha già capito tantissimo il potenziale del sadomasochismo per cui negli anni 50 primi anni 50 esce Tarzan le schiave che è esattamente quel tipo di cosa lì cioè io prendo un immaginario che è l'immaginario di sottomissione gli tolgo qualsiasi tipo di valore politico e lo faccio diventare Tarzan che ha tutto il potere sul suo harem ovviamente è una mossa normalizzante è una mossa in cui quella cosa lì perde qualsiasi potenziale rivoluzionario e diventa bella diventa vendibile diventa commerciale diventa anche attaccabile perché a quel punto ovviamente le sex war che ci sono state nel femminismo statunitense degli anni 80 si basano esattamente su questo cioè perché andiamo a frequentare quello che è un immaginario che perpetra gli stereotipi anzi li rafforza proprio perché è sempre la donna essere legata è un discorso che non tiene conto di tutta la parte culturale di tutto il ragionamento politico e di tutta la parte relazionale cioè cosa significa farlo veramente non solo guardarlo non solo avere la fotina non solo appunto comprare l'harness nei sexy shop ma avere una pratica che prevede il coinvolgimento del potere e quindi prevede una messa in discussione una messa in gioco mi aggancio alla domanda di prima perché mi sono resa conto che ho sorvolato su una parte fondamentale per quanto riguarda la diciamo il concetto di terapia forse l'ho dato un po' per scontato ed è sbagliato le scene BDSM prevedono una chiusura cioè c'è una cornice all'interno di cui si sta è una cornice che può durare anche moltissimo tempo ma è una cornice alla fine della scena di quello che tecnicamente si chiama la scena c'è quello che in gergo viene detto after care cioè mi prendo cura di te la parte dominante le parti dominanti si prendono cura della parte sottomessa alle parti sottomesse e danno tutto ciò che vogliono che questo sia coccole che questo sia atti erotici che questo sia acqua che questo sia cibo che questa sia una coperta c'è assolutamente la messa a disposizione c'è in realtà un forte rimaltamento dei ruoli in quel momento che però è anche la chiusura e la ricostruzione prima abbiamo parlato di umiliazione di dolore appunto di andare anche a scavare nei traumi il fatto che ci sia questa chiusura permette poi di riappropriarsi del sé e proprio di quel sé che è stato fortemente destrutturato durante la scena ed è in quel momento che poi ha la potenzialità terapeutica se rimanesse aperto ovviamente sarebbe faticosissimo e anche pericolosissimo condivido totalmente quello che hai detto e parlando della della forza sovvertiva comunque di come la scena sadomasochista rispecchi i rapporti di forza della società però appunto sovvertendoli ribaltandoli e ti faccio sempre una domanda partendo da un tuo frammento che dice le persone con tendenze masochiste sono più socialmente adattate di quelle con tendenze sadiche una convinzione che credo abbia a che fare con la visione sociale della violenza per cui il ruolo della vittima è più sano e accettabile di quello del carnefice anche qui ancora una volta vediamo come per l'appunto il BDSM rispecchi la società e quindi anche da questo punto di vista molto subdolo molto molto ambiguo e ti chiedo sì di ampliarlo per fondire dici bene ambiguo nel senso che ovviamente da una parte le vittime sono tra mille virgolette malviste dall'altra sono quelle anche accettabili sono quelle su cui giornalisticamente si fa la notizia il carnefice è qualcosa che la società tenta di rappresentare come corpo estraneo cioè non è la società che crea il carnefice è una variabile impazzita è una mina vagante e lo isoliamo e non esiste più è figlio sano del patriarcado non è un caso cioè è esattamente quel tipo di rivendicazione lì il fatto che la violenza sia endemica nella società capitalista patriarcale è qualcosa che di nuovo il BDSM ci aiuta a scoprire non perché sia una scoperta di per sé legata alla sessualità dissidente ma perché nel momento in cui io riesco a giocarci con questa scoperta e a dire ma non è che il nucleo della violenza in realtà basta esplorarlo perché poi ce l'abbiamo lì perché poi in realtà ci passa attraverso tutta una serie di messaggi più o meno subliminali più o meno educativi e per cui mi basta guardarmi dentro un attimo e dico ma guarda io questa azione questa modalità questo prevaricamento in realtà lo so agire perché in qualche modo me l'hanno insegnato me l'hanno insegnato o l'ho visto o l'ho subito e quindi l'ho anche appreso e qui si apre un discorso enorme che è quello di quelle che negli anni 70 si chiamavano istituzioni totali cioè tutti quei posti in cui il potere viene agito e non viene problematizzato cioè in cui la gerarchia fa parte della essenza dell'istituzione la scuola l'ospedale negli anni 70 si diceva le fabbriche e è un grosso problema il fatto che non ci siano più non le fabbriche ma dei posti di lavoro in cui questo potere è così evidentemente incarnato e quindi poi c'è tutto un potere che è molto più subito molto più digitale ma il fatto che non sia più il capo il padrone non vuol dire che questo rapporto di potere non lo subiamo davvero quotidianamente in modi più o meno urlati più o meno esagerati a seconda anche del nostro grado di benessere di privilegio però siamo abituati a stare dentro delle strutture di potere e il fatto di riconoscerle e di giocarci sopra ci aiuta anche a trovare dei modi per abbatterle quando poi invece a quel potere non vogliamo stare grazie durante tutto questa chiacchiera questa conversazione abbiamo parlato di performatività di questo gioco che viene messo in scena senza però approfondire questo aspetto in sé di come la scena sadomasochista il gioco di dolore sia anche un po' un teatro perché come parli anche tu in uno dei capitoli chiamato a parte il teatro in sé che dedichi un capitolo proprio specifico parli anche di utopia e quindi di questa potenzialità sempre di creare una spazialità diversa una spazialità che crea un reale circoscritto ma che comunque resta un reale e un reale sì performativo però sempre un reale quindi ti chiedo di approfondire questo aspetto molto molto interessante secondo me questo collegamento del teatro come spazio dell'utopia mi piace tantissimo non è così esplicito nel mio libro ti ringrazio moltissimo in effetti sì sono sono estremamente d'accordo il sadomasochismo il BDSM si rifà alla scena teatrale proprio per struttura non a caso peraltro si usano delle terminologie che sono poi le stesse non a caso abbiamo parlato di scena c'è ovviamente il fatto di che poi finiscono quando finisce la scena che è il grande assunto del teatro ma è anche il grande assunto del teatro tutto è finto e niente falso cioè tutto quello che succede lì ha senso perché succede lì ma non è falso sono tutte cose che in potenza succedono altrove non succedono così non succedono in quel modo così non succedono con quel copione ma non è che non succedono allora questo spazio di esplorazione che in effetti è sì teatrale non nel senso che per forza le scene sadomasochiste siano performate in modo consapevole non è detto che io incarni un ruolo che in quel momento non sento a volte sì a volte no ci sono dei ruoli più di altri ci sono delle ricerche più teatrali di altri ci sono delle scene più costruite di altri ci sono delle scene più naturali però tutto quello che succede è il fatto di sapere tanto che sia dentro una cornice ma anche poter giocare sull'uscita costante da questa cornice e quindi giocare evidentemente un modo brechtiano tra il dentro e il fuori del teatro grazie io in realtà avrei finito le domande però ci terrei a sottolineare come innanzitutto questo libro sia stato molto arricchente per me sia dal punto di vista politico ma anche poi della potenza anche poetica che ha il BDSM a parer mio e per l'appunto l'erotica l'erotismo che lo costituisce una poesia che anche lì è espressione che si può declinare si può manifestare in tante forme e questo è una poesia una potenza una melodia che sei riuscita a parer mio a trasmettere e per questo ti ringrazio anche per questo momento insomma grazie a te ok per appunto averi concluso se ci sono domande dal pubblico oppure delle riflessioni che volete condividere il microfono è aperto grazie grazie ok bene allora vi ringrazio tutto per l'ascolto e vi auguro una buona serata grazie a tutti grazie